gindobre eccoci per rita buonasera buongiorno a tutti da pregi stessi aclari bene sabrina pronto solo da 51 e tu ti connetti a rita 5 4 3 2 o dimmi si la vedi allora vedo lei che è un uomo che sta dipingendo una parete è un uomo biondo moro allora lo vedo come uomo di mezza età che dipinge una parete di un di una sorta di di reggia di come se lavorasse lì e sta dipingendo questa questo palazzo questa reggia si fa vedere questo ecco i vecchi anni mi spotto a sprazza e prima lui è tornata con budenco è una vita parallela certo se questo uomo che è rita ti dà l'autorizzazione tutta nostra nata che ci posso farla niente allora mentre lo dicevi si è girato e mi ha detto sì tac perché vedo che continuano a colorare a dipingere questo questa parede ma la fa come si chiama jason ingresso perché non lo siamo cattore taroc mi dice mi viene 1570 the chance pensati 70 100 dove siamo in certa olanda olandi lui olandese johnny scolando colandri ok lui sta dipingendo o è un artista che fa delle delle decorazioni a pareti a muro c'è un trucco ma lo vedo mi siano attesa artista non fa come non tanto a me che ci resta un che notte una cristiana allora quello che mi arriva è che lui sta dipingendo questa questo palazzo questa reggia ma fa anche delle è anche un artista insomma disegna dopo aver dipinto la parere ma che non c'è stiamo a testa al testo amita ma che c'era sono che io conosco con noi è una cristiana e la regia di chi è tocco con a lasciata un potenac mi viene di un sovrano di quel periodo la famiglia reale scusa che cosa cosa che scuola scherogine teme moccara cercheremo ancora certamente a me ok vedi la parte subliminale di rita c'è fiducia rete si gira il ragazzo il signore mi dice sono io totan panova si nasce un cresciuto razza in fitta testa mia beh ma questo è anche jason la testa stante sono allora mentre dicevamo questo mi si è presentata una un'altra mi si presenta come ragazza quando abbiamo detto parte subliminale mentre lo dicevamo dopo che già son mi ha detto sono io mi si è presentata in forma di ragazza e intorno vedo tutto scuro adesso potenque tempo facciamo che sono stata questa mia sarà sfida pota un caso amici rovnias porta c'è 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 in chi i piastresi e vacuni c'è una tua è sparita la scena del del muro del palazzo che stava dipingendo e ho visto questa ragazza con intorno è tutto scuro che mi dice la parte subliminale allora sono io e tantasena stemma la fana in testa di snek ne ho appena cittano vasta nostra un gesto in convita facciamo comuni va bene chiediamo allora la parte subliminale e dopo la prima sessione fatta con me c'è una ragione alla parziale scomparsa della paura dei ragni la teresa peta e metà un testo c'è piacere se se non c'è 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 una factor snick n'avorto in stavo tra c'è un cami ha preso consapevolezza che le abduction e l'entità non vanno accettate usciato mio a fabio che prova c'è in questa nel nostro della nostra dimensione nel nostro piano comunque mi viene sempre da dire che gli insettoidi vengono da noi associati a livello inconscio a entità e quindi questo nel momento in cui comprendi che il gioco lo comandi tu e non vuoi più permettergli nulla automaticamente mi viene questa cosa che scompaiono le cioè non hai più le paure nei confronti degli insetti terrestri il momento è usciato amistagato a te tutta i giorni è stato attesa che è morto a un cronto a te lo finis nico io non c'è che fobie senza nasi insegna mi ok allora chiediamo alla ragazza che è la parte sulle renale di rita cosa sono quelle due cicatrici ci sono il segno di due abduction sapete metterà sta un gesto in catona gestione da un trattusso rete cote si è prisa certo che non è che mi chiese ho provato allora a me viene che dall'ultima sessione ad oggi quello che lei percepisce reale e ne vedo 10 di abduction se ho possano i sessi vita ma ho trovato te fra me vita 80 con tasso bevolge scienze ho provato in totale esatto come se lei avesse allontanato e compreso ma a distanza di tempo alla fine lea riattratte solo 10 però una potente i fessi ne ho provato in città ma cresce perché l'attacco ma perché non è facile felice movimento perché loro ogni momento ogni istante è buono per attaccarci noi viviamo in una situazione in matrix qui che è un continuo di buttarci giù quindi basta il primo la prima debolezza ed è un attimo inoltre mi viene da dire anche che anche nel momento in cui diciamo una persona si pulisce si e prende consapevolezza se non si mantiene a livello mentale anche la la forza di mantenere questo stato all'esterno loro si stanno quindi 9 10 che sono piaciuta una musica da un mostre alle ieri i miei pranzo e non facciamo i mentali mi starai scelta ma città i testosci non facciamo i mental non sono e tasto attrappotente è stato un nuovo nas science si però è solo una questione di consapevolezza nel momento in cui si capisce profondamente che tutto questo un gioco e l'abbiamo inventato noi nessuno di queste spiegazioni può restare in piedi tac alle cogite a capire o si fa domani e si trasmia ma già metto te la santa metto un gronto attacca la parte giornata che non è mai un senso perché sono tornate le abduction a me se la risposta della pse non è facile vuol dire che questa psa non ha capito niente gli schiopo viaggia un dos una petta nel ciò che poi facciamo interferenze st ogni squad fatta con prodotto su anni che la trasformiamo mi viene ovviamente sì così però c'è sempre il famoso gioco della mente che comunque in fondo mi viene da dire anche che è un elemento interferente da da una parte no ho prato alla faccia è stata elementi un messo lamento interferenza cioè se noi prendiamo consapevolezza l'anima prende consapevolezza ma poi la mente per una serie di motivi a delle carenze sue che si porta avanti e non lavora la mente anche nella prima debolezza è diventa attaccabile 9 di sito saperemo scato most all'isola di poter un mese con i pranzoi a me non sta pronto per tratto passano in inizio nella sua bosca passo non vuole interferenze quanto è la consapevolezza di rita ea caist scato a mosca ci fa da mostri 3070 per cento sia tantissanto però tanto qual è il rapporto tra psp e rosa va cambiando tu sono a trama 3 ma mi viene p e stavolta 54 55 50 100 terry pg c'è quello che scusate se interrompo quello che vedo che sto che mi arriva è come se tra dal l'ultima sessione ad oggi non abbia fatto un lavoro tagliami è stato tra i certi momenti poi arrivato a fard hot momento possano i sessi e quindi se con avassa ma spesi alla prazza cosa intende per lavoro la ps fatta tu sa ma names che move on prendere con la prazza quello che mi arriva questo è come se lei dopo la prima sessione era tranquilla adesso la vedo di più e si fosse tra virgolette seduta su questa sua pulizia della prima sessione ma non avesse continuato un percorso verso il mantenimento di questo tutto avete tutta che abbono a poter sessi pierce da capperna scelta caspa coin sportavano a laura qui e mi viene che purtroppo spesso succede nelle persone questa cosa qui c'è il lavoro poi dopo è il tuo e tutta vita torta c'è stata questa ma ministra possa si faccia ok quale sarebbe questo lavoro secondo la ps che non è stato fatto sa vado che tu sa poi finna poi troppo si è si è seduta sul sul discorso ok ho fatto la sessione quindi adesso è tutto ok e invece comunque giorno dopo giorno c'è una costruzione ripeto quello che mi arriva proprio sul mentale cioè sul mentale per una posto sportavano a laura mi viene da fare questo esempio nel senso se un bambino viene morso da un cane da piccolo da grande avrà paura anche dei cani piccoli però poi avevamo città che c'è quattro i giudici e scuola sostenere ucrisione a torno giaco rosso e bambino magari farà un percorso e farà una sessione si rende conto del perché ha paura dei cani senza ricordarlo però non finisce la paura c'è ok tu prendi consapevolezza però poi devo imparare a far sì che il cane diventa mio amico questo senso in navati esli poverso sessi ho trovato un informazio stavo coliscono a questa coppia l'isola indipendente potano si fa domino facciamo intanto proprio saprato faccio teco problemo totani e smicchia cioè non basta prendere consapevolezza dopo bisogna lavorarci universitario tricosa musica meno sapete un'altra un po canciapata la gesta notte in pratica faccio ok causa esoterica della solitudine di rita c'è una esoterica fama nostri rete allora la prima cosa che mi è venuta mentre lo dicevi anche in quella vita era comunque perché quando mi viene mostrata ha un significato una persona sola già in quella vita che mi ha mostrato è stato faccio a fax attacca stante non c'è c'è lì in quella vita lì e che mi che mi ha mostrato lui comunque era un dipendeva da questa famiglia e stava lì e non si è riuscito a costruire una sua famiglia quindi non ha avuto moglie non ha avuto figli non ha avuto nulla io soltanto non c'è ciò che usa la notte e raggine trattore pratova ogni fai e raggine di mostra il coso e già cosa la snotta anche l'occhi causa del non avere una relazione c'è una niente passata nia srians con ora come vengono diverse cose la prima anche da quella vita che ci ha mostrato poi avevamo c'è l'usno da 3 e nostre cosa che è stata faccia che non proviamo tanto a cercare mi può casa volta come ne vengono altre due una è comunque il come un po tutti che si rendono conto di quello che purtroppo la magics è sentirsi un po al di fuori un po diverso quindi non accettato non compreso ieri ma colina giacomitante poi ha fatto che poi erano i vieti lucas da god uscita ma saperci mia sma 3x e tacchè appoggiù c'è becciani trozo mi hanno famigli anni e forte adesso questa cosa qui la paura di mostrare se stessa idrocavo trasmissetto e poi ha creato straccio tipo casani e mi sa me con paura di essere ferita strano quindi per per farsi a un muro cioè io ho paura di essere ferita quindi non mi mostro e faccio prima pensi tra strani e niente foto che ha già potuto di metà che morita che per ogni po casa si è sfiato effetti dell'iper protettività nei confronti del figlio c'è una factor rita è stato più contatto sono cosa sena è conseguenziale a questa situazione nel senso che comunque il figlio è la la sua creazione di concezione d'amore quindi naturale questa cosa che fa in tanti satua stacca per senni c'è ovviamente l'amore per un figlio per carità però non avendo non riuscendo a esprimere a farsi vedere avere una storia comunque concentra la sua bisogno di dare di amore verso che comunque l'avrebbe fatto lo stesso però ha perso il figlio figura maschile poi no ma di parte e poi ne faccio di modo da andare spartner altre foto foto che ho fissuto che ero un covo era salvato non siamo fai a un mio faccio in assena ok sabrina ci sono dell'entità sabrina che sceglie stato allora io sinceramente da prima che lo vedo però aspettavo che me lo chiedessi ma ne vedo soltanto di una fazione io vedo dei falconi formi qui io sto fai davanti all'attacco la maschina cosa petarci vide tutto certo che è un gruppo ai stato e santa ossa cova fatta edl hai stato sfetti stava uno dove invece c'è una tua cuore serzo solitudine sono posti solitudine e paura di un blocco della paura di mostrare se stessa di aprirsi a un uomo a qualcuno ma al mondo proprio tac i rovini è stata nostra straccia a farci mi sono andata non mi vuoi lasciare ma le dl si insinua molto facilmente a livello mentale quindi come vede un abbassamento delle difese subito arrivo che state sfetti di stava senta che già vai a un tempo ne ho sacrificato tre cose mi manca adesso la parola quella italiana ripeti che ne ho perso filo che le dl nel momento in cui arriva un abbassamento delle difese a livello mentale quindi ti senti debole è il primo che si insinuano su abili per traccio la carta cazzo nostro caso è stata certe scroccio a livello emozionale è quello che è più è più forte tra virgolette degli altri si insinua di più ma poi già mi faceva se ne dicevano se esiste parisciano indice in estate page post tempo notine che è stato ok sopra i falconi formi chi è il capo perché se fosse cn1 ashroth che cosa come fate stata messa fa allora vedo un vero e proprio falco enorme però lo vedo sempre similare a una fenice li vedo così con la coda che finisce con questa due codine alla fine della coda lo vedo tipo finisce vite la crona costa cavale che ciò poi noto che fennix la sascia vita tanta chi ho conta che rosso fai o non ha con il colore e che come che ma colore strano me l'hai chiesto perché te lo volevo dire e stavolta viola lo vedo viola taggina giotto appettare giocattimento una consiglio secca e scoloro fiola trofeco viola e marrone fioretta vota che pronto è un falconi forme poi stessa covata se il simbolo della fenice deriva da questa entità c'è sembra la fennix a vastine poco oggi otto che stato a me viene che il simbolo si la fenice in genere in realtà è la rappresentazione di un'entità che le persone vedono ma non capiscono percepiscono ma non sanno che in realtà è un'entità fennix simbolismo e ha conquistato la nostra pagina nierosumia poi ha conquistato oggi con la posta tv g fennix art momento mentre parlavamo mi viene proprio di vedere come la percepiamo noi c'è loro che si auto rigenerano da sole esattamente come poi come la conosciamo noi la fenice il simbolo della fenice da metà queste posto camista o tectore potrà te un senano voto di patrata e una nuova fennix lana ok si può dire che i draghi sono il punto più alto dei rettili e la fenice appunto pianto di falconi formi c'è ma sono 20 kg smocchi sono aperta che un appoggio amistica oggi ora per te liana attaccato dai fennix è stata mai facciamo un po c'è messo oggi o falconi ti dico di sì perché ogni volta che spesso che mi ha chiesto chi è il capo dei falconi formi vedo la fenice quindi si fa facciata questa carta me la sancte petash manie falconi d'ortrata fennix ok come si chiama questo finisce che c'è una serata anno fennix mi dice fallo fallo e come si chiama il progetto di nuova interferenza nei confronti di vita guarda sinceramente qui nel suo caso non mi viene un progetto mi viene che nel momento in cui diciamo un'anima umana abbassa le le difese è il momento buono per riprendersela tutto qua temo mancini e psicologi minato progetto po prosto tutta la carta in la sancte d'uscia mai a costa che la sua posta che la sua posta state una nuova poi abbiamo scelta risposta interferenza ce la vedo che scusa vedo questo come se innalzo perché poi mentre mi domandi io cerco di vederla dall'alto ci sono dei progetti sui umani però ci sono anche delle dei singoli come il suo caso che comunque si liberano ma poi vengono ripresi semplicemente quindi tutto qui da bravo sono concrete nel progetto sono i miei luci mi ha letto sanità che c'è tempo sapato proprio stavolta che perché la sua voce da nostra vostra snotta che si sta tenendo uscito per come sono gli occhi della fenice gli altri quanti a fenix a mamma mi sono allungati gialli santa che potremmo uscita chi di affollo se il simbolo della fenice qui sulla terra associato alla al risorgere dalle ceneri della fenice ha un significato particolare sapete che fa la parte sembra il fenix attualità che o tra tani c'è un spoppio off c'è maia che natania è stata la cima guarda mentre mentre me lo chiedevi ne parlavamo io ho visto che lei mi diceva come se sì però è realtà non è reale nel senso tanto loro vengono ricreati in quanto artificiali quindi la fenice rinasce su se stessa ma è come dire un entità viene elevata e un'altra ne viene ricreata mi viene questo è stato misto di poi arrivo una vita move il taco la questa è sempre ogni etre al neppogna vasto di stata tecnica da una sono storcina italy intonista che sono ci sta messi c'è più tra trent capo la stessa un crovane una nuova nuova programma esatto un programma questo esattamente ok però perché questo significato alle sconte attacchi natania è venuta questa cosa qui per esempio c'è tanta gente che che se lo si fa il tatuaggio della fenice credendo che abbia questo significato in realtà facendo di per esempio adesso mi è venuto questo esempio il tatuaggio della fenice che si ricrea dalle sue ceneri tu stai accettando la loro interferenza tutto qui tra sta che conosce poi ho soffertato voi a un fenix a me ci sono giammato che faccia stato anni attraverso a casa non è attaccato a prato e tatuaggio sopia fenix a o si fiat charge da con la mia stagione a cosa che mi viene da dire scusa che una delle miliardi di programmi di cosa buona che vengono inseriti in matrix semplicemente per fregarti poi mi viene questo di tazza mi stara spero to fact per con la parte di etna mi fielo certo che la sono provata nato ma sticca affronta con la parte poste termine per sapete capota per davanti che non sono le cose ok facciamo un esempio una persona ha una brutta malattia magari un cancro sopravvive e poi si tatua la fenice tutta che c'è quando c'è nel caso sopec torai est ora naraka ipotesi coi statui a sapere fenix dipende nel senso se tutti da dove la fenice perché tu anima ti senti rinata e tu per prendi consapevolezza che se tu che sei riuscita a superare la malattia e è una cosa tra virgolette positiva si testa uscita da mondo sonct ora uscita da me a sapere tutte le sue stesse cose robe il tetto wear soviette con fenix andata costa contro zaini a trovare con una torta test un po saterno se tu invece ti ingualisci da un cancro ti fai questo tatuaggio della fenice perché pensi che ci sia stata qualcosa che ti abbia dall'alto graziato in realtà tu stai dicendo grazie a qualcosa che sta sopra di te e quindi lo stai attirando questo non so nato me ha scritto tu io sapete con fenix a poveri trofini un mesi tangente la cascina ma c'è più austrofiva non portate è stato nascata secondo me ma è chiaro è chiaro va bene ok due sogni in ospedale nel primo operazione alla gola colonna nel secondo iniezione in un ospedale che il psichiatrico al al gomito al braccio rita spagnavano amato snag spitalo i etan sanno paraziano carta i crancostoppie a trucchi che cacini e che ha spettato psichiatra da prima che lo vedo mentre lo diceva lei ricorda una di queste 10 ad up la prasa un nato thai pamentai di sciencio abduction ma è la stessa 2 sono due diversi si mi viene da dire nel sogno non era un sogno ma era un abduction pro di unico giuoto state ho usato sento capovato per comprovate bene cosa iniettano stati qui i tancini a me viene da dire qualcosa per tenerla più bassa di vibrazione calma più ma io ho piaciuto i brazzi ma c'è un spaccoio perché l'operazione alla gola colonna ad attacco a parazzi a carto e cronco sopra a me mentre lo dicevi ho visto anche un impianto dal quale loro comunque lavorano l'iniezione la vedo quella sul braccio mentre tra la la diciamo la schiena e la gola vedo proprio come se in fisicamente gli mettono qualcosa mi viene questo c'è tanto po piacere che tratta tanzas check frank ha troppo capato che si implanta se non fanno operati a una garla di cronco sopra va bene vediamo lì tutti gli impianti nuovi allora gola in carto schiena a me viene qui in mezzo al petto vicino al cuore basta non vedo altro io senza in vita sono comunque tanti considerando che ha fatto una sessualità che tu so che non sapeva fare affatto chiamiamo a che non sassi a causa tutte ricade i problemi di dolore la schiena c'è una stata regina bollo spazzo media dire l'impianto in plant è come se tramite questo impianto loro comunque lo utilizzano per qualche motivo cielo di viene utilizzato di più questo impianto sulla schiena vedo questo tra capo e teni in plant spazzo la cosa stefane c'è attivo fa nato giovane bar in cinna causa esoterica del problema alle emorroidi ci accende stata la camera ride off a me viene uno sfogo c'è uno sfogo fisico sfogo di cosa dovuto a cosa un'emozione energetico le mozze che ci stanno in arcata cina mi viene da dire si è uno sfogo energetico come se lei comunque tendesse a tenere dentro le situazioni emozionali e tendesse avere la sua scelta di sfogo del di tutto questo in inglese che sapo sani in arcata cina ti chiamava con poco a sapere tesa questa realtà che sento un fisico ok causa esoterica delle lecce ma alla mano destra c'è una tercina examen a tuoni e stanno perché mentre me lo dicevamo ho visto la come quando si mette la una una con la farfallina si chiama lago sulla mano viene questo il fatto sta che con si è cercato a palza perché come se non venisse utilizzato si usa fai un tag o va bene e veniamo al pendolo ahimè rital ha utilizzato dopo la sessione si chiede se è stato fonte di interferenza reta posso con esce va a te o che mi ero privato ogni estate testa può piacere se si spettaccio non interferenti purtroppo sì ovviamente sì quali vedo alcuni fuoco oggi totta cosa cosa mentre parlavamo visto lei la fisionomia di oggi che utilizzava questo pendolo e in quel momento è come se l'avessi proprio avesse riaperto un canale il problema è che in quel momento se non a caso abbiamo visto la fenice no in quel momento lei pensava di rinascere dalle proprie ceneri invece che tani appassi 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 a nome ci fa una ragione c'è stato nel proprio attacno card qual è il motivo per cui le domande che si fanno al pendolino sono sempre hanno sempre una risposta poi corretta che insomma si verificano nella realtà sa che cota foto foto proficcia che c'è cosa scuola batai andata fatta ok sa che coppa foto proficcia che c'è cosa non sono tutta fuori ci fa un compromesso che lei ha fatto con la fenice testa che si compromette che io non so farò a stan fenix c'è realtà l'anima non ha bisogno di niente le risposte ce l'abbiamo se se uno prendesse consapevolezza di questo non avrebbe c'è la consapevolezza e sapere che è tutto dentro di te non hai bisogno di niente al di fuori tagna pravda tu sani posso poi nita cos'è non si è una ben gestione c'è domani si affresca poi di soft a petani posso poi argita cos'è non c'è no ma è chiaro musicoterapia c'è una signora molto famosa di youtube che propone l'uso del diapason come se fosse un pendolino per avere delle risposte interesse colline petani e rete tappetani musicoterapia io camerton e rovnias retta prova o gioca che città minaria c'è vastata per nei panni che rapporto promulgata e terapia questo sistema è pulito la signora pulita accetta accetta metodo di scesta e tutta panni e sposta da dire questo mentre lo dicevi è sicuramente più pulito del pendolino tutta amici tutta e poi rivolta che informatica per no camartone son parche però io purtroppo purtroppo mentre parlavamo di questo strumento io vedo che si aprono dei portali all'inestetica usa un genio camartone cosa facciano giocciare non c'è che si portava dove poi esattano chi viene da conto provato a porta vedo angeli angeli di al agno è stato ciclista ok la signora di youtube piena di dl c'è tanta panni gli ottimo paio senza una lista ciclista purtroppo sì mi è stata attacca e qui ascolta c'è stato taisnami su ha pensato sì ma più che lei io vedo lei lontananza mentre la nominavamo e questa giurma di e dl che dice che volete vita terra sia un attaccato a tutt'ora le costi saniamo per uno che christa c'è christa va bene analizziamo velocemente l'emozionale diritto tutta rassa tristezza solitudine smotex a mort nostre non accettazione braga accettarsi come come anche tutte le persone che si rendono conto e prendono comunque la consapevolezza di quello che è non stanno bene perché cosi che te lo so per te lo stiamo saper strada staco perché sentiamo c'è situazione no c'è tanto opso però me le mostra me le sta mostrando la la vita parallela del signore che dipinge al poco di metà si tratta c'è torre c'è non è quattro come lo stesso nel corretto ma lui a tonusciana torniamo a jason qual è la ragione per cui si mostra la parte subliminale questa vita da artista pittore però c'è la sdolta di sana della cacca crattuscia poca savana ma si è toccata con artist ma lascia decoratora mi dice perché lì è nata la mia la mia solitudine io ero in compresa era un artista in compresa 88 mi ha faccio un tec maia famotto noi siamo figli per quanta che dietro somiana mar testo non sono stato riconosciuto per la mia attitudine per la mia arte di quanto azione stato chi mi beva una costa mar testa fascina e quindi in casa nascosta e questa cosa le rimane dentro perché come se vedo sempre questa dualità come se lei lo viva adesso no e tautosciamata quante sono le vite parallele di rito il 1250.000 e perché su 1250 vite è importante quella di jason attacco fascina tutto se c'è risa ma perché l'anima mi c'è lui mi dice perché in questo momento è quella che gli serve di più capire a nuove certe moment c'è totale c'è totale c'è totale c'è ne parli uscite rosomia in questo momento è quella che gli serve in questo momento di questa sua vita qui più significativa per togliersi un po di pesantezza un attimo a scena tappi a testo c'è ancora nei parchi e riche a per tutta stava ce lo sai sa va bene sabrina come vedi la consapevolezza della ps di rita era al 70 per cento è ancora così io vedo che mi ha presa ne arriva da 150 adesso era sfida già sotto 50 cento però tanto teniamo la teniamo questo valore sotto controllo andiamo al cluster trattare a me c'è un tasto allora cluster mi ci porta il signore pittore la castra sapiera nasta un artista ma lascia entriamo in una stanza dove ci sono pareti con delle lastre non lastre scusarmi delle panche di legno mi fa vedere con tutti i libri sopra oggi metterò a mia strana tra non sono lì c'è una waf che strana in a nixon che poi apre le banche sono delle panche di legno che si aprono mi fa vedere che dentro ce ne sono altri nascosti tanto per la parte della discussione attacca tra niana e poco rimetano c'è stata saltando un po crema texen ghi siccome sono stati tolti questi partiti questi contratti la volta scorsa perché sono di nuovo lì sono erano nascosti il luce a peta l'attacco niente l'attacco ci sono poi arriva io poi ci fa dalla sua panica scoperta me viene da dire come se erano nascosti se non vedo questa cosa del steppe anche me le mostra e come se non si vedevano però lui adesso apre dice qui ce ne stanno altri nascosti poi avevamo città che facili formate e poi mi viene da dire anche che se comunque diciamo vengono levati ma tutti riapri a determinate accettazioni di di entità e di patti comunque in qualche modo riemergo non ho qualcosa di torno ma è taccato impatto sono niente ma con poco non ho fatto a fare fatto va bene cosa vuole farne sartarita steno tra pizzo non vuole buttare le panche perché dice che qui c'erano quelli proprio nascosti quindi a maggior ragione vuole buttare le panche che lo faccio allora in una delle pareti dove ci sono tutte pareti colorate da lui mi dice si apre un buco definitivo prende queste panche le buttaria tempo mi spiega sono cittane pommo la fanna piaccia snega i hot ferata che porta al verne stessi anni sono state sognate si le pareti sono dei portali definitivi si testa neta santa che si interessa portale e butta via il vaso fai a tutti che adesso si terra stac c'è qualcuno che conosce nel proprio cluster caccia tasca con asma a me viene da dire che il figlio di oggi era legato comunque alla vita del pittore poi c'è informati a se no pezzi sentano tanto ma lascia e poi quando siamo qui io vedo faccio sempre difficoltà in questo posto perché come se vedessi diversi collegamenti cioè ci sono madri padri che sono fratelli e sorelle di vite parallele non riesco faccio difficoltà sono sincero e tutto testa mista e lascia monta contro noi vanno a te compagni vasta scorsa c'è rosno l'equata sua vita di sono l'opera transagna trusne mi matti camis rosne mia amica mi tronca mi ragina va bene andiamo all'avatar la terra stata e mescente a fatara e diciamo l'aps di rita che questa volta è quella definitiva i poveri ma tosse rita che sembra zami è stata ostatecna stata generalizzata mi ci vediamo allora il ragazzo di pittore se si è non è più lui ma è lei adesso la donna con i capelli castani che vedevo primo e tra stan ma l'ars menu scelta un gesto necro tra significhe altra cos'è un scritto regolata ma sono stati scostati una faccia con gestione stato come si presenta la ps è così facciamo tanto e tusso e che fanno c'era più perché fa allora arriviamo su mutaglia mesceta vede se il solido bambocetto insomma il solito pupazzetto come lo chiamiamo noi davanti al computer seduto sulla sedia i figi tra cota coche ho cresciuto a una società per computare poi prende a breve vedo con una parete colorata dipinta da lui da lei potremmo c'era porta alla città ne è un po mola van e lo apre e diventa un portale definitivo e farci questa è stata finita in portale prende l'avatar prende il computer lo chiude come un portatile che chiude ho piaciuto un computer da me cacotta capito con laptop stacca la spina c'è un cartel che butta tutto via il frasco da portano e poi in questo momento ormai vedo sempre che vanno via impianti e stai momenti a casa in casa in vita sotto entrare nel cerchio che in plant poi lei prende la fenice per la coda e la butta via una stampa impiaggia teco fennix asa con il trasconto soltanto a portano nella fenice che entra nel portale diventa cenere vita fennix ho detto che portano i tam samania c'è proprio tutto questo è un processo che diciamo la ps ti fa vedere per fare un bel film perché di fatto succede tutto in contemporaneo assolutamente sì la scataccia muoviamo attacca la porta c'è da lasciare un figlio no trash nel cansa mantrasse si è come se scegliesse delle cose da farvi lì programmi taca l'attacca tutta cosa che non porta con ok verifichiamo se ci sono ancora impianti e tica quell'unico edl tutta la sua parte che sono stati che c'è implante stop è stata scritta contratti e che il contract noi in questo momento non vedo nulla niente ma mangiare significa ok controlliamo diamo una controllata veloce al gatto e al cane della casa diretta per sciocca contro la naconia scott upside to morite guarda mi viene da dire questo come se lei avesse allora prima c'erano degli edl accanto agli animali sta significavano box via santi stata c'è chiesta viene tutto in contemporanea praticamente tutto in simultaneo nel mentre tu me lo dicevi e come se lei mi avesse fatto vedere che avendo preso consapevolezza di questo si fosse resa conto che c'erano e l'avesse elevati insieme al quello che era accanto attaccato a lei viene questo a lei successo è una domanda gli edl che si attaccano agli animali in questo caso fosse anche in tutti sono in realtà lì per interferire il padrone assolutamente sì che tratta capitani la strana luce accetta gli stati schiettisti attore si potrà chi ha un po di piacenta attacca parte il tale amministratore si interessa rovani sicuramente lo svegliato a me viene da dire scusa restano in una zona che normalmente non si controllerebbe il gatto il cane e attaccano comunque provano a interferire la persona nel momento opportuno c'è un po di mancanza sviaggiantati i tanti normali pc che ne socavo art a cui forse c'era a me viene da dire questo se una persona a un edl l'animale a un edl il feeling aumenta ok poi avevamo città che formate a raggiungere i vostri c'er mai stato scrittista ma è stato scrittista o toff tate nel momento in cui la persona si pulisce e e si rende conto che va pulito anche l'animale come se quelle dl non avrebbe più senso di esistere nell'animale in quel momento penso che ho fa basso ma ho deciso di stato scrittista i rosomini a testo la finestra sviluppa fino a soltare il testo ma vienze per state animale senso è nata il stato che risposta può riuscire a lancio se non è come se lato aspetta aspetta se non avessimo controllato gli animali cosa sarebbe successo a sapere c'è stava che bisogni scontrolla vale tutta una coppia sarebbe nata tra padrona e animale c'è pop sulla pace relazzi a compagnia centami allora al momento mi viene da dire come se la persona che si pulisce automaticamente avendo degli animali quindi amando gli animali passa l'informazione quindi comunque in questo momento simultaneo l'animale si pulisce nel momento in cui si pulisce la persona a me viene questo ma come se l'animale è una cosa che tu prendi sotto la tua ala e quindi nel momento in cui tu ti pulisci è come se pulisce anche l'animale come se tu a livello vederico passi l'informazione all'animale vieni questa cosa mi piace scusate la mese che è convenzione solite san c'è via o testa stato informati a casa di rato ma che c'entrano sveglianza io noto la stana va bene messaggio finale importantissimo della parte subdominale di rita rita in modo che noi e rita non ci vediamo più ma con i capelli castani che è la sua ps vita tush rite c'è una faccia stemmi pranzo femmini posso amica significava adesso mi sta mostrando che dipinge intera sana mi può caso io sono ma lui è dice come se quello che percepivamo dall'inizio come se lei deve fare un lavoro giorno per giorno su se stessa per non dimenticare quello che è la casa tazzo che hanno appartamento cosa non c'è una carta che mi ha applazato un prato faccia un po c'è la mentale lei dice come se io adesso devo dipingere e disegnare mettere su carta con i colori quello comparato e muoviare a terra sta caccia c'è una cuccia vato tra i musci terrestre sapono tanto il coloro ma lo faccio nonna kart note carce e ogni giorno fare un dipinto diverso un qualcosa di diverso e ricordare che che comunque ho imparato a fare questo e e devo lavorarci devo continuare a dipingere che sa caso da me la non devo aspettare che gli altri dall'esterno mi facciano le cose per me le devo fare io e ricordarle metterle su carta fissarle dipingerle nemmeno dopo le case maniche minero zervano ma stiamo a mucipparato la scorsa con i mucinata e cart a tog vietnici ok l'unica cosa che mi viene da aggiungere a rafforzare il mentale perché nel momento in cui il mentale va giù diventa attaccabile tutto ma ci fa per stato smosso i mentali fai come sbagliare non avevo spagnato state what fai amore sono stata come come chi è che sposa mi mostra questa cosa non so credo che per lei sia costruttivo dipingere sfogare le sue quello che c'è dentro e soprattutto come se fosse un modo per esternare ciò che lei vorrebbe dire dare dipingendo con dei dipinti di colori mi mostra questa cosa qua ma certa che stato recinto tempo casavate li usa francesco ciascato ma ci fa certa che sposa ma lui coloro a quanto sta la consapevolezza adesso dire a quanto ammonta la consapevolezza di rita via cast che sposa mi fata moschia di testa momento nel 157 per cento la visione scelta in protanto terrestre psp in equilibrio roma vagamente tu so mi chiamata la mischia una bs 51 la via terra se spingisce anche tanto la ciavata raccina adesso vedi lei vedi jason vedi chi come la vedi lei sia che un terzo che giusto viti sia un terzo che sono vedo la donna con i capelli castani mi la fa vedere così la sua ps una donna giovane con i capelli castani che dipinge dipinge delle pareti enormi li fa vedere a foglio ma in realtà una parete dipinge colori colora vedi a tanti giorni a stermi per non sapere posta mia qualità cianana rosna colora va bene qualcosa da aggiungere di tu e strada che vedi e non hai detto cosa faccia faccia con i propri giovani e propri giovani il mentale si può pulire la ps possiamo fare le sessioni però è come se questo fosse l'inizio non la fine no c'è ma sarà tutta la città finiscono sduscia a totale con risposta un tec per una pronta si poi il processo che ha esatto e poi mi è da dire di pensare a livello mentale di mettere il semino che tutto è dentro di noi non abbiamo bisogno di fenici di idealizzare le nostre potenzialità è tutto dentro di noi ci apriamo sia a esternale tutta la potenzialità che abbiamo senza andarla a cercare all'esterno viene questo ok va bene sabrina disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo sabrina rosso